Siccome noi siamo una coppia di fatto, Antonella, lo sai, no? E siccome... Hai visto cosa c'è dietro? Hai visto? Sì, cinemania! E la nuova trasmissione che partirà? L'8 aprile condotta da... Lucio Di Mauro! Quindi in bocca al lupo, lupo! Lui in bocca al lupo, Lucio, Lucio! In bocca al lupo, Lucio! In bocca al lupo, Lucio! Ciao!